A Milano mancano ancora 60 medici di medicina generale e nemmeno il bando aperto da Regione Lombardia il 15 giugno scorso e terminato il 15 di luglio ha migliorato di molto la situazione. Per l'ATS della città metropolitana di Milano infatti erano a disposizione 296 posti, di questi 60 solo nella città di Milano, ma a rispondere alla chiamata, secondo i numeri aggiornati a giovedì sera, il giorno prima della chiusura del bando, sono stati solo 25 i medici di base tra l'ATS di Milano e Lodi. Sul territorio quindi mancheranno almeno 200 medici di medicina generale, considerando che ad ogni professionista sono assegnati 1300 cittadini, anche se nella realtà ogni dottore arriva a coprire fino a 2000 pazienti. rispetto ai 60 medici di base che mancano a Milano, tra i municipi più scoperti ci sono il municipio 6 con 13 dottori che non si trovano e il municipio 9 dove a mancare sono 11 medici di famiglia. Per alcune zone periferiche inoltre il nuovo bando impone che nel caso in cui i medici scelgano uno di quei quartieri essi sono vincolati ad aprire proprio lì il loro studio, questo per assicurare un'assistenza territoriale soprattutto a fragili e anziani che avrebbero più difficoltà a muoversi. Le zone soggette a questa clausola sono il Giambellino, Chiesa Rossa, l'area attorno a Via dei Missaglia e Quinto Romano. Prima di questo ultimo bando Regione Lombardia ne aveva già aperto un altro il mese prima, ma anche quello aveva avuto scarso successo, tanto che poi si era deciso subito di procedere con l'apertura di questo ultimo.